Le persone coinvolte nell'attentato, quelle che almeno abbiamo ricevuto noi nel nostro ospedale, sono 62. Sono rimasti coinvolti sia donne che uomini che bambini. Una cosa che ho notato è che rispetto alle mass casualty che ho fatto in questi anni, in questa mass casualty in particolare c'era uno sguardo delle persone che restano anche assente, e più che disperato proprio assente, come se avessero visto la cosa più brutta del mondo, come se fossero appunto stati investiti dal terrore più profondo. Questa cosa qua è una cosa che ho notato e l'ho vista in tutte le persone che sono arrivate.